Tornano al lavoro dopo il lockdown gli operai al cantiere relativo alla viabilità a servizio dell'aeroporto che collegherà la tangenziale di Salerno al costa da Malfi. Un intervento che si avvale di fondi della regione Campania, ultimata la sistemazione del confine stradale e la risagomatura della nuova carreggiata ampliata della strada provinciale 275, sono ora in corso i lavori di allargamento di via Lago Carezza e di sistemazione delle intersezioni a rotatoria, sopralluogo sul posto del presidente della provincia Michele Estrianese, presente anche il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe. Abbiamo fatto un sopralluogo con il presidente della provincia, con il collega sindaco di Ponte Cagnano e il collega sindaco di Montegolvino Pugliano per verificare lo stato della viabilità sui lavori appaltati per quanto riguarda sulle due provinciali che si collegano dalla Versana e l'accesso all'aeroporto di Salerno a costa da Malfi. Il primo lotto appaltato regolarmente e quindi lo stato di avanzamento dei lavori, le due rotatorie che porteranno sul viale dell'Olmo con un secondo lotto che collegherà l'aeroporto direttamente sulla stradale 18 che porta all'ingresso autostradale di Ponte Cagnano a sud Montegolvino Pugliano. Quindi un lavoro importante, tutto finanziato da parte della regione Campania, però con la progettazione da parte della provincia e con RUP della provincia. Si è fatto un buon punto della situazione per verificare se davvero ci sono le condizioni che nel giro di sei mesi la viabilità sia tutta pronta per l'accesso aeroportuale.